ciao ragazzi bentrovati sul mio canale youtube dedicato alla compravendita in food oggi farò un focus brevissimo su quello che sono i miei investimenti e gli investimenti di cui vi ho parlato in questi giorni dedicati al foodmas abbiamo visto la schermata dedicata appunto all'evento di natale che comincerà questa sera se tutto va come lo scorso anno verranno rilasciate tre sbc giocatori ogni giorno fino al giorno stesso di natale la mia situazione chiaramente considerate che io ho un budget di 4 5 milioni di investimenti è la seguente ho parecchi alcuni pochi rimasti dal team of the week precedente ho un paio di tolissori rimasti ancora nei giorni scorsi invenduti ho i dubrarca che vi ho accennato ieri su instagram comprate sotto 11 e mezzo considerate che tutte le sbc giornaliere del del foodmas potrebbero richiedere carte if inoltre sappiamo benissimo che arriverà oggi il potm della premier league che potrebbe essere bardi son alli o chi più ne ha più ne metta arriverà settimana prossima il potm del campionato francese arriverà settimana prossima il potm della bundesliga per cui state pur certi che gli if saranno fondamentali qui tralasciando un sarabia che è un giocatore che io penso prima o poi avrà una una carta if ma non è non importante alcuni da silva presi sempre nel team of the week scorso praticamente a prezzi di scarto poi come vi dicevo ho preso 87 88 88 sotto 29 k ma 80 88 specifici vale a dire ho preso soltanto ederson come 87 mi sono preso navas che si trovava a prezzi molto molto buoni e inoltre alcuni hummels vertonghen alder weyrell di cui già avevo parlato e poi mi sono improntato principalmente sui 84 in modo particolare giocatori più ibridabili quindi vedi vari pepe siri guleiva leno e i vari esterni come felipe anderson nabri coman eccetera eccetera e poi tantissimi 83 presi sempre sotto i 2009 e 3000 crediti albiol bartra acerbi romagnoli e compagnia inoltre la mia lista trasferimenti è continuamente in movimento cosa significa significa che tutte le card che avete acquistato non dovete tenerle ferme in lista trasferimenti bensì cominciare già a listarle e venderle listarle a prezzi maggiorati come vi ho mostrato ieri spesso e volentieri nelle mie storie su instagram per chi non mi seguisse seguitemi food18italia-trading tutti gli if del team of the week vecchio sono praticamente quasi finiti perché come vedete listandoli non appena gli if sono usciti dai pacchetti gli utenti hanno preso i premi della weekend league gli if hanno cominciato a salire di prezzo e possiamo vedere lui possiamo vedere i giocatori flippati per la weekend league i vari varan l'englet addirittura poi fabigno è risalito nuovamente come vedete rivenduto intorno ai 19-20k 7-8 mila crediti con l'englet una decina con i varan e poi qui vi consigliavo chiaramente i dubravka qui vi mostro sempre le listate ogni ora permettono di fare vendite a prezzi rialzati nonostante il mercato sia più basso quindi cosa significa semplicemente se voi avete una card che è stata acquistata a 3.000 crediti potete già listarla a 5k se voi avete una card comprata a 28 29 potete già listarla a 33 se avete una carta comprata a 20 potete listarla a 24 capiterà spesso che listando ogni ora riuscite a fare delle 20 occasionali nonostante il prezzo sia più basso rispetto cioè più alto della vendita rispetto a quello di mercato reale una cosa importante è questa ricordate che ci sono tre sbc giornaliere quindi significa che tutti questi giocatori potrebbero essere utili stasera come domani come dopodomani come domani l'altro ancora ok bisogna aspettare il connubio di requisiti interessanti per un giocatore interessante mi viene da pensare posso uscire un sissoko posso uscire un mendy del realo del 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 city di manchester city posso uscire magari un douglas costa un marcello un rush for tutte card veramente molto interessanti che faranno oscillare giornalmente i prezzi di queste card per cui tenete d'occhio queste carte che vi ho consigliato attualmente i prezzi sono già in buon rialzo per cui il momento migliore per acquistarle era sicuramente ieri durante i premi o al massimo ieri sera detto ciò ragazzi vi invito nuovamente a seguirmi sul mio profilo instagram foodiciottitalia-basso trading iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo lunedì con il prossimo video ciao ciao